Questa è una ponenza che mi ha a base di una riunione che mi ha ascoltato il dia 28 di februari che nella riunione non aveva nessuna classe di debattere di punto essenziale con il rappresentante di Buneiro che si tratta nella Olanda che è a base di nostra administrazione che si chiamiamo Holbes e la nostra base finanziaria che si fanno bene. Questa è una riunione, mi ha riparato che non aveva rispetto a un altro e aveva tirato la parola, aveva zundra, aveva calumniare e aveva menospreciare un gruppo, una persona, aveva una riunione pubblica. E un punto che mi senti una verga, aveva un consiglio che pide per rincare il tuo documento, rilassone con il documento finale, con la delegazione che si tratta nella Olanda. e ora che la pide sei, tanto il presidente del consello e il griffere, avisa che non può, non può, per rincare il nome di persone, il documento non è stato bene, però non è stata bene, non è stata bene, ma è stata una parte finale. e con conseguenza che nessun altro consejal che non ha mai un diritto, un diritto a ancrarre la legge della nostra democracia, non ha mai un diritto di documento, non ha mai un diritto. E nessun altro consejal non aiuta il altro consejal. E' un consejal che non ha mai un diritto, non ha mai un diritto, non ha mai un diritto. E' un parto che non ha mai un diritto di democracia, non ha mai un diritto. E' un parto che non sia un diritto di straffoli, non ha mai un diritto di democracia. che riguarda il Pueblo di Boneiro. Questa è una arrogancia e ignoranza che è il gruppo che sostiene il Colegio Ejecutivo. La coalizione sta attuando a base di rabbia, a base di arrogancia e io voglio farlo con una ignoranza grande di persone qui, ma sopra se vuoi precisi di quello che ti trattano, e la cadena explica che il contenito sta. E questo non è il caso. E poi c'è un altro consiglio che avisa il documento che il contenito non è quadrato con il obiettivo della riunione.